Eccoci qua. Allora, oggi parliamo di I Santi Successori degli Dèi, l'origine pagana del culto dei Santi, scritto da Pierre Saint-Yves e pubblicato da Edizione Archeios, che è del gruppo editoriale mediterraneo. Bene, allora, quando io parlo di cristianesimo si generano sempre delle polemiche meravigliose. Allora, oggi parliamo di cristianesimo in modo particolare. Parliamo di cristianesimo dal punto di vista del marketing. Era uscito qualche anno fa un libro molto carino, devo riprenderlo, si intitolava Gesù Lava Più Bianco ed era appunto un libro sul marketing del cristianesimo, ma poi lo recupero e ne parliamo in un secondo momento. Allora, perché parlo di marketing e di cristianesimo? Allora, una cosa che mi sono sempre domandato nei miei studi storici, appunto come sapete io sono uno storico, è come diavolo abbia fatto il cristianesimo a soppiantare completamente, se vogliamo, le antiche religioni pagane e dei territori in cui sono entrati. E me la menavano con il plus, possiamo dire, il plus psicologico che aveva il cristianesimo rispetto alle altre religioni, ovvero la speranza nell'altra vita, no? Le religioni dell'antichità avevano come idea quello di muori una volta che sei morto, sei morto, punto e basta, oppure una metempsicosi, una sorta di reincarnazione, ma mai un premio per i nostri comportamenti buoni o una punizione per i nostri comportamenti malevoli in un'altra vita, cosa che potesse spingerci a comportarci meglio o peggio secondo la nostra volontà, secondo il nostro libero arbitrio nella nostra vita. E mi sono sempre domandato, sì, è vero, questo di sicuro ha avuto un impatto sulla psiche, sulla psicologia collettiva delle genti che hanno incontrato il cristianesimo nel corso di questi due millenni, ma basta. E poi ho iniziato a vedere simboli, attributi dei santi, delle divinità antiche, riviste nella simbologia, negli attributi appunto dei santi del mondo cristiano, ma soprattutto è stata per me illuminante una frase della mia professoressa di storia romana, la professoressa Giorcelli all'Università di Torino, che un giorno a lezione disse Sapete, i romani non hanno mai avuto problemi, mi viene da dire Scazzi, lei non avrà di sicuro detto Scazzi che è una persona molto educata, non hanno mai avuto problemi religiosi con le popolazioni conquistate, perché sono sempre partiti da un presupposto. Il presupposto del romano che conquista i Galli, che conquista il Nord Africa, che conquista l'Ibernia, che conquista... L'Ibernia? Che cosa sto dicendo? L'Iberia, l'Ibernia e l'Irlanda non ci sono mai arrivati. È sempre stato quello di non imporre la propria religione, se non la religione civile, quella sì, ma a livello intimo, a livello personale... Eccoci, siamo stati interrotti da Maurizio che ci segue, e si scusa per l'interruzione, ma Maurizio ti saluto che vedrai questo video poi quando lo pubblico. Dicevamo, stavamo parlando dei romani e del loro atteggiamento. Dicevo, quando i romani conquistavano un territorio, non imponevano mai la loro religione, ma cercavano, fatto salvo appunto la parte civile della religione romana, cercavano di assorbire le divinità locali per una serie di motivi. Motivo numero uno, non andare mai a sfrugugliare le persone su un qualche cosa di intimo e personale, come può essere la religione, e mi sembra sacrosante. Motivo numero due, metti mai che anche le divinità degli altri, anche le divinità dei popoli conquistati, esistano e siano cazzute come dicono loro, metti mai, non facciamo in reposire nessuno. Bene, secondo la mia analisi, e in questo libro ho ritrovato tante di queste mie riflessioni, di queste mie risposte, il cristianesimo ha avuto il vantaggio competitivo, ha avuto il vantaggio nel marketing di non dire, quantomeno all'inizio, quantomeno, come dire, in maniera pressante, poi c'è stata tutto quanto in evoluzione a partire dal Medioevo in poi, però parliamo dell'impatto che il cristianesimo ha avuto nei primi secoli. Ha avuto l'intelligenza di non dire, guardate che voi siete sbagliati, guardate che la roba vostra non esiste, ma, per quanto magari pubblicamente lo dicessero, per quanto magari facessero cose zozze anche in tanti casi, ma hanno avuto l'intelligenza di inglobare le divinità, i simboli, gli attributi, le caratteristiche, appunto, delle divinità precedenti nel loro mondo. Adesso vi metterò qua di lato qualche immagine. Partiamo dalla copertina di questo libro. Questa qui era la croce di Brigitte, della dea Brigitte irlandese, ed è diventata poi la croce di Santa Brigida, di Santa Brigitte irlandese. Quindi il logo, possiamo dire, precedente, non è stato cancellato, non è stato buttato, non è stato bruciato, ma è stato portato all'interno della prassi, della vita politica, religiosa, spirituale e psicologica del mondo celtico-irlandese, senza scalciare via. Vi dicevo, allora qua adesso possiamo mettere l'immagine di Santo Paolo dell'Etarante, a fianco ad Asclepio. Questa qui è una fotografia che ho trovato nel libro di Pier Giorgio... scusatemi, stavo dicendo Pier Giorgio Parola, ma non c'entra assolutamente niente, ma è Pier Paolo di Giorgi. Un bellissimo libro che ha scritto sul tarantismo, questo qui mi pare di ricordare che sia una fotografia che aveva scattato sua figlia. Vediamo Asclepio, con il suo bastone, con le sue caratteristiche, e vediamo San Paolo, con il bastone identico a quello di Asclepio, con il serpente arrotolato. Questa qui è una fotografia scattata in una chiesa salentina, adesso non mi ricordo il nome della chiesa, e se andiamo a ben vedere, tante delle caratteristiche del Santo Paolo salentino, meridionale, protettore delle tarantate, protettore degli animali morsi e animali velenosi, protagonista di un rito di purificazione, sono le stesse, anche nella struttura fisica della chiesa di San Paolo a Galatina, sono le stesse del culto di Asclepio, di un Asclepeio, della statua di Asclepio. E di questo si potrebbero fare miliardi e miliardi e miliardi di esempi iconografici, ma anche a geografie dei Santi, nelle biografie dei Santi, noi possiamo trovare tantissimi di questi elementi, di similarità, di identità, nei nomi, nei luoghi, nelle caratteristiche. Bene, questo libro qui ha una carrellata di analisi di questo tipo, appunto, da un punto di vista dei nomi, dal punto di vista delle caratteristiche, dal punto di vista degli attributi, dal punto di vista simbolico, da tutti quanti i punti di vista, e ha la capacità di darti gli strumenti di osservare, di comprendere, per osservare e per comprendere il mondo che ci circonda. Il mondo cristiano, che in realtà, qua mi prendo la piena responsabilità di quello che sto dicendo, e non c'è scritto nel libro, non è altro che una riedizione, una, come dire, un adattamento delle religioni precedenti che sono state inglobate, sono state portate all'interno del mondo cristiano. Bene, questa, secondo me, oltre alla parte psicologica del domani, dell'oltretomba, dell'oltrevita, del giudizio, di tutto quanto, è stata una delle più importanti caratteristiche vincenti, possiamo dire, del marketing del primo cristianesimo. Quindi, come dicevamo, un aver inglobato, un aver portato all'interno del proprio culto dei santi, tutta quanta una serie di caratteristiche delle divinità, o proprio delle divinità, ma anche proprio con i nomi, anche proprio sfacciatamente, delle divinità del mondo pagano pre-cristiano. Voi che idea vi siete fatti? Datemi una qualche risposta, datemi un qualche feedback. Io su sta roba qua ci sto ragionando veramente da un sacco di tempo, raccolgo dati, raccolgo informazioni, e questo libro mi sarebbe stato molto utile una ventina di anni prima della sua uscita. È uscito, mi pare, tipo nel 2017, 2018, 2016, 2017, quel periodo lì. Ma l'avessi letto vent'anni prima mi avrebbe realmente aiutato, mi avrebbe messo con i piedi sul sentiero giusto e mi avrebbe evitato di andarmene in giro un po' a cazzo, a cercare informazioni, a cercare ragionamenti, a cercare riflessioni. Datemi la vostra opinione, se volete venire a spulciare questo lì, ovviamente lo vedete, qua da retusa ce lo abbiamo. Se volete che ve lo spedisca, scrivetemi, mettete il like sulla pagina, seguite, fate tutto quanto ciò che ritenete utile per poter vedere i prossimi video che pubblico una volta a settimana, tutti i giovedì sera alle 18 circa. Grazie mille dell'attenzione e a presto, ciao!